Eccoci qua telespettatori, telespettatrici, telefriuli, la politica internazionale incombe e quindi abbiamo voluto fare un break proprio sulla politica internazionale, avendo il fatto che il nostro conterraneo, diciamo così, nato qui, nato a Caracas, però residente in Friuli-Venezia-Giulia che è iscritto nel comune di Fiume-Veneto, è venuto a trovarci e io ho approfittato della situazione, quindi ecco qui Marcos Polesel. Ciao Marcos. Ciao Enzo, molto contento di rincontrarti in persona perché li vediamo sempre da Caracas. Ci siamo conosciuti attraverso Youtube, attraverso Internet perché lui segue la mia trasmissione e le altre di Telefriuli, per cui appena venuto qui ha detto che volevo parlare sulle situazioni che sta vivendo la mia nazione, il Venezuela. Li vediamo in Venezuela, il Telefriuli-Canale. Esatto, lui è direttore del Movimento Destra Liberal Autonomista, diciamo così una specie di lega del Venezuela. Sì, un movimento che ha fatto una proposta negli anni 2006 come una via di uscita alla tragedia che viviamo in Venezuela. Ecco, dici qual è la situazione in Venezuela perché di ora in ora noi vediamo un po' di tutto, vediamo i muscoli di Laduro, vediamo anche i tentativi di Guaidò, però la situazione vista dall'interno è da un protagonista nazionale. Io come leader politico di opposizione di destra ti posso dire che Venezuela è un paese che non esiste, è un paese che da tempo non è autonomo, libero, sovrano, indipendente. Tecnicamente oggi Venezuela è un territorio che è in mano a Cuba, è la tirania cubana dei Castro, allora non c'è stato di diritto, non c'è nessuna protezione dei diritti umani, allora da lì partono tutti i problemi. Si violano i diritti umani, si ammazzano la gente che manifesta, la gente muore, voi sapete che la gente non trova le cose per mangiare. Questo è un'assessuale economica drammatica, no? Hai bisogno di comprare dieci medicine e trovi solo tre, allora negli ospedali non c'è assolutamente niente, il paese praticamente è alla fine, è una tragedia, è una tragedia. Un paese così ricco di beni del territorio, parliamo di miniere, parliamo di petrolio, parliamo di beni primari, comunque è sotto scacco delle potenze straniere. Allora, la ricchezza di un paese non dipende delle risorse naturali, abbiamo visto paesi che non hanno nessuna risorsa naturale e i cittadini hanno un'altissima qualità di vita, vivono bene, allora qual è la conclusione? La conclusione è che il sistema socialista è la fabbrica più grande di povertà, allora lo Stato si fa ancora più ricco mentre i cittadini si fanno poveri. E questo sistema qui non è una crisi, come la chiamano, non è una cosa transitoria, non è una cosa che è per colpa di che si sono abbassati i pressi del petrolio, no, è un sistema che è fatto apposta per far così che la gente non abbia la forza, non ha le risorse per uscirne fuori. Sta arrivando questo Guaidó che in qualche modo ha avuto un consenso internazionale prima da Trump, poi da altre, dal mondo occidentale, poi parleremo un po' della situazione italiana e della presa in posizione del governo italiano e sembra che questa sia un po' la speranza per tornare a votare, no? Lo stesso Papa è stato interpellato da Maduro, dice sono pronto per una mediazione, ma la realtà qual è? Tutto si riassume in una sola frase, una via di uscita interna in Venezuela non esiste, ossia che qualsiasi persona come Guaidó o tanti altri che sono stati prima sono totalmente irrilevanti perché noi da dentro non possiamo uscirne fuori, siamo arrivati a livello che abbiamo bisogno di un aiuto potente, forte, militare, esterno, perché se non succede questo... C'è il pericolo della guerra civile? C'è un pericolo... No, la guerra civile ci vuole un... per tu avere una possibilità di guerra civile in Venezuela, in qualsiasi paese, devi avere un gruppo disposto e armato e in Venezuela non c'è un gruppo disposto a prendere quella, intraprendere quella via lì e neanche sono armati e per mettere armi dentro il Venezuela, abbiamo visto oggi, ieri, come il regime ha bloccato l'ingresso di medicine e alimenti per la popolazione, però l'ha bloccato le forze armate di lui, sono controllate e addestrate da generali russi, da vent'anni che ci sono generali russi addestrando criminali per sottomettere alla gente e appoggiare e fare più forte il regime. Ecco, senti, tu mi dicevi che hanno lasciato il paese quanti milioni di cittadini? I censimenti in Venezuela sono una cosa impossibile da fare, però dal 2000 al giorno d'oggi, guarda, praticamente in 8 anni, sicuramente sono andati via 10 milioni di persone. Cioè, sono andati in Bolivia, sono andati... Sì, molti al principio, quando già hanno detto che qui non c'è niente da fare, allora i primi sono andati via con l'aereo, i secondi sono andati via con la corriera, i terzi, adesso gli ultimi, i più poveri, vanno via camminando. È la prima volta in Latino America che si vede un esodo di quel genere lì. È la prima volta che nessun paese in Latino America ha sofferto un esodo di gente camminando che deve scappare di un paese per un regime tirannico, criminale. Quando negli anni 60 Caracas aveva l'autostrada e in Cile andavano a dorso di mulo, adesso mi pare che... Sì, negli anni 50, quando è arrivato papà in Venezuela, quando è emigrato papà in Venezuela, Venezuela era un paese ordinato, sicuro, in progresso, la chiamavano la Hollywood di Latino America, allora era il primo paese che aveva già autostrade dentro città, mentre tutti i paesi di Latino America ancora stavano con strade di terra... Tuo padre è stato anche un numero uno della Confindustria Venezuelana nella Camera di Commercio. Sì, lui ha fatto una carriera molto... di una traiettoria molto ampia nelle Camere di Commercio e poi è arrivato finalmente a essere il Presidente della Confindustria Venezuelana, che là si chiama Fede Cameras, allora un italiano che arriva a quel livello lì mai visto, allora in Friuli è stato premiato, riconosciuto per questa cosa qui, perché ha fatto molto contrario, ha fatto molta campagna, molto attacco a tutti i governi che hanno implementato il sistema statista, socialista, che oggi paghiamo le conseguenze. Senti, i friulani in Venezuela, a Caracas in particolare, quanti sono se vi vedete, se c'è qualche rapporto, oppure vivono un po' la situazione così? Sì, a Caracas, come in tante altre città del Venezuela, sempre trovavi un fogonare furlano, allora a Caracas praticamente il fogonare furlano sta chiudendo, perché? Perché molti sono morti, molti sono ritornati in Italia, i figli degli italiani friulani sono scappati via del paese, molti sono venuti qua in Italia, altri sono andati negli Stati Uniti, Australia, in altri posti, e succede più o meno quello che succede nel paese, il paese si svuota, allora tu alle 4-5 del pomeriggio non vedi più nessuno, tutto chiuso, vai in giro, non c'è nessuno, non c'è traffico, non ci sono macchine, perché non si trovano i ricambi, però il paese praticamente muore, va morendo, e questo ha il vantaggio del regime, è fatto tutto apposta. Ma ci sono anche delle bande di criminali che magari durante… Sì, la criminalità, l'insicurezza del Venezuela ha i livelli che è difficile spiegarli, sono cose di terrore, uno praticamente vive da quando si alza a quando va a dormire alla sera, una tensione costante che ti possono… ci sono, per esempio, per dirti una cifra, ci sono 6.000 sequestri lampo all'anno in Caracas, solo in Caracas. Allora, i sequestri lampo sono una cosa che fanno molto paura, ti sequestrano, allora il sequestro può durare ore o giorni, ti chiedono tutto quello che hai e ti liberano in poco tempo, però è una cosa che fa molta paura perché sei in mano a criminali che se ti ammazzano non succede niente perché non c'è polizia, non c'è niente, non c'è giustizia. Allora, dopo viviamo in quartieri chiusi con una sola entrata, una sola uscita e il posto di blocco pagato con guardiani nostri, allora dobbiamo spendere anche in sicurezza. Quando andiamo in giro siamo sempre con la paura, con la tensione che ti possono incrociare e rinchiudere in una strada per rapinarti o sequestrarti. Quando stai in giro, quando sei in giro per strada puoi capitare che sei in mezzo al fuoco incrociato delle bande con le polizie. Quindi praticamente è un'attenzione tremenda, possiamo continuare. Bloccato il sistema politico, bloccato il sistema economico. Il Paese è bloccato. Ecco, la gente non partecipa più perché non ci crede più. Sì, è importante sapere questo, che i consensi che ha il regime non arrivano a un 10% e non è da adesso, è dagli ultimi anni 90. È il consenso che ha l'opposizione, che è una finta opposizione, che adesso è rappresentata da Guaidò, non arriva neanche al 12%. Allora, l'importante che volevo spiegare è che l'80% dei venezuelani non vuole sapere niente del regime e il suo sistema socialista, però neanche dell'opposizione collaborazionista che da 20 anni ha fatto il palo, ha collaborato con il regime. Come? Facendo vedere con partecipazione nelle elezioni fasulle che in Venezuela esistiva una democrazia. Perché vincevano uno, vinceva l'altro. Allora, in 20 anni la comunità internazionale ha visto che perlomeno in Venezuela c'era una democrazia che non era vera. Per questo sistema collaborazionista di un'opposizione immorale che ha fatto un danno tremendo. Allora, Guaidò è totalmente inutile. Qualsiasi cosa che venga dentro in Venezuela non sarà la uscita del paese. Noi abbiamo bisogno di un intervento internazionale, militare, multinazionale, non solo degli americani. Io preferisco multinazionale così si riparte un po' le cose che si devono fare dopo. Come si è fatto in Iraq. Per esempio, gli italiani si sono incaricati di ricostruire le polizie. Gli spagnoli si sono incaricati di ricostruire i ponti. In pratica bisogna ridisegnare un paese. In pratica bisogna rifondare il paese. No, rifondare il paese. Ecco, la situazione italiana... Le istituzioni sono sequestrate. Sì, la situazione italiana è molto complicata. Abbiamo visto che il ministro Salvini ha aperto, ha detto che sono disponibile a parlare con Guaidò e naturalmente alle nuove elezioni, eccetera. Mentre gli esponenti del Movimento 5 Stelle, di Battista in particolare, che non è più diciamo così parlamentare, ma è un'icona del partito di Maio e di Grillo, invece dicono no, va bene Maduro perché è stato alletto democraticamente. Noi non vogliamo entrare. Però il Movimento 5 Stelle è il chavismo. Loro sono andati al funerale di Chavez e Grillo ha appoggiato molto di questo. Allora, io non mi spavento se il Movimento 5 Stelle è a favore dei criminali, della tirania. Una cosa si deve dire, perché sono direttore della Lega Venezuela. Ti posso dire che Salvini e il nostro partito, sempre dal principio, è stato contro la dittatura, contro i criminali e sempre a favore del popolo venezuelano. Solo che adesso, nella votazione del Parlamento europeo, perché la politica venezuelana sta incidendo duramente nella politica italiana. Non solo perché c'è un governo adesso che è mezzo insalata. Perché ci sono molti italiani qui in Friuli che hanno molti parenti in Venezuela. E qui in Friuli ci sono molti italo-venezuelani che sono ritornati e hanno la preoccupazione di sapere quello che succede in Venezuela. Ci sono molte relazioni tra i friulani e quello che succede in Venezuela perché molta gente ha qualcuno là. Bene, allora guarda, la nostra intervista è terminata, però naturalmente l'impegno nostro è quello di seguire anche attraverso i social la stazione venezuelana. Tu magari ci farai sapere, magari anche con altri protagonisti. È chiaro che noi sentiremo anche altre campane perché è evidente che la informazione deve essere questa. Io ti ringrazio perché mi pare che tu torni in Venezuela a fine mese. Sì, fine mese ritorno in Venezuela e vediamo che mi trovo là. Però il bello è che abbiamo fatto io degli incontri con esponenti politici qua in regione che adesso hanno contatto diretto mio con una persona che conosce veramente il mostro dentro. Bene, allora Marcos, buona fortuna e naturalmente buona vita a voi. Peccato che tutto il brutto del mondo adesso è nel mio paese. Peccato, è una tragedia, però speriamo che il mondo ci aiuti a uscirne di questo tremendo inferno. Ecco, con questo appello di Marcos io vi do naturalmente la buona visione con Telefriuli e alla prossima. L'argomento è molto spinoso, molto delicato, non lo seguiremo ancora. Molti, molti morti. Alla prossima, ciao Marcos. Ciao. Ciao. Ciao.